Da qualche mese, per due volte alla settimana, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, in un ambulatorio a Borgo Faxal, il dentista sociale del GAP, gruppo d'acquisto popolare, cura i pazienti che non possono permettersi operazioni e interventi in strutture o ambulatori privati, a prezzi ridotti o a limite pari alle strutture pubbliche. Grazie all'adesione di alcuni dentisti di Piacenza e di alcuni meccanici dentisti di Piacenza, abbiamo dei locali utilizzabili per fare delle visite intanto, ma anche per fare interventi conservativi di cura all'apparato dentario, a prezzi che non superano il costo che uno sosterrebbe andando alle strutture pubbliche. Infatti come tarifario di riferimento noi prendiamo quella dell'ospedale Galliena di Genova, l'ospedale pubblico, che è il tarifario più completo da usare come riferimento. In otto mesi ben 150 pazienti si sono sottoposti ad interventi dentali. Ad oggi quelli che hanno avuto, hanno fatto gli interventi, sono circa 150 ad oggi, quindi vuol dire che siamo partiti otto mesi fa, quindi non è che sia, per dire, il dato è significativo e dimostra il bisogno che c'è di questo tipo di copertura di welfare locale sul territorio. Il GAP ha da poco inaugurato anche lo sportello di psicoterapia, dove due terapiste seguono a prezzi popolari una ventina di pazienti, mentre presso la coppa infrangibile ogni venerdì pomeriggio è attiva la spesa sociale. Consiste nel proporre a tutti, a chi vuole, acquisti di prodotti a prezzi popolari. È nata perché nei momenti di crisi si cerca appunto di andare incontro a tutti, specialmente alle persone e alle famiglie che hanno particolarmente bisogno. In poco più di tre mesi già un centinaio di persone hanno aderito all'iniziativa. Per acquistare bisogna essere soci del GAP, perché noi non ne mettiamo scontri, per cui ci viene fatturato il tutto, noi però possiamo solamente cedere a questi prodotti a chi è socio del GAP. La tessera si fa lì in loco e è gratuita. Ad ora abbiamo circa 100 e più persone che sono venute a fare spese da noi.